Allora, buongiorno a tutti, grazie di questo invito, perché è vero che io parlo spesso di questo argomento, però mi rendo conto che è una grande chiave per capire appunto quello che diceva il dottor Gennazzani, cioè come funzioniamo. E effettivamente quella che è stata la ricerca di questo tema negli ultimi 15-20 anni ci ha dato proprio delle chiavi interessanti di comprensione, quindi è un po' su quello che in qualche modo guiderò, scusate, la mia comunicazione. Allora, intanto noi abbiamo più o meno, diciamo inquadriamo di che cosa parliamo, noi sappiamo che più o meno oggi le nostre ragazzine raggiungono in media il menarca sui 12 anni, 12 anni e qualche mese, anche un po' a seconda delle casistiche. Sappiamo però che lo sviluppo puberale è un continuum di vari eventi che riguardano anche apparati diversi e che stanno in una cronologia che però non è una cronologia rigida, che in qualche maniera prevede tutta una serie di varianti individuali. Quindi, diciamo, da un punto di vista clinico, quello che ci dobbiamo porre è quando noi ci troviamo di fronte in una situazione che è effettivamente una situazione di ritardo e queste sono, queste che voi vedete, sono un po' gli standard clinici di quando far partire un'investigazione, cioè quando ci sono i caratteri sessuali e non c'è il menarca a 15 anni, quando a 13 anni non c'è nessun accenno di telarca o quando è iniziato uno sviluppo puberale, ma sono passati quattro anni e il menarca non è venuto. Allora, per capire dove stiamo andando, bisogna tenere presente che questo segno, che è il segno del menarca, è un segno che integra tutta una serie di informazioni di salute, ma che in fondo la variabilità maggiore è una variabilità di tipo genetico che, diciamo, copre in alcune casistiche fino quasi all'ottanta per cento della varianza. Su questa variabilità di tipo genetico incidono dei fattori epigenetici che riguardano la vita intrauterina, sicuramente per esempio il nascere pretermine ha un impatto, ma che riguardano anche, per esempio, gli eventi precoci della vita di questa bambina o di questo bambino o dei fattori correlati agli inquinanti endocrini. Poi noi sappiamo, e diciamo il programma di questa giornata incide molto su questo, che le varianti metaboliche regolano il tempo della pubertà, ma che ci vuole anche un ovaia che funzioni, un utero che funzioni perché noi arriviamo a vedere questo segno. Noi non parleremo oggi delle situazioni in cui l'utero, per esempio, non c'è o è ipoplasico e allora la pubertà va avanti ma noi non vediamo il menarca, o delle situazioni in cui a livello centrale tutto funziona ma l'ovaia non funziona perché è disgenetica. Quindi tagliamo fuori questo tipo di situazione per concentrarsi sui quadri a patogenesi centrali, anzi alcuni quadri a patogenesi centrale che appunto arbitrariamente un po' scelto sia perché interessanti sul piano di diagnosi differenziale sia perché ci parlano proprio del sistema ipotalamo-ipofisi e dei neuroni a GNRH. Perché in fondo sono stati proprio gli studi di genetica sugli ipogonadismi ipogonadotropi che in realtà sono delle patologie rare a raccontarci meglio effettivamente quello che è lo sviluppo intrauterino e non solo dei neuroni a GNRH. Noi tutti sappiamo che questi neuroni derivano da dei progenitori che stanno vicini al placode olfattivo e che durante la vita intrauterina migrano seguendo i neuroni infattivi cioè lungo questi assoni che a un certo punto deviano andando a collocarsi in quello che poi sarà l'ipotalamo e disperdendosi almeno negli umani all'interno dell'ipotalamo. Ma non basta, sempre nella vita intrauterina cominciano a allungare delle terminazioni che arriveranno in quella che è l'eminenza mediana e cominciano a essere immessi in questa rete di regolazione di cui altri dopo di me parleranno e questa rete già attiva alla nascita perché dopo la nascita avremo quel fenomeno della mini pubertà in cui tutto il funzionamento è già attestato. Allora che cosa ci dice la genetica senza andare a approfondire? Beh la genetica ha effettivamente documentato tutta una serie di mutazioni che riguardano queste tappe, che riguardano cioè lo sviluppo neurale di queste regioni, che riguardano le molecole che guidano la migrazione, che riguardano tutti i fattori che andranno a regolare a livello centrale il GNRH o che vanno a incidere sulla sua azione periferica a livello di ipofisi, a livello di ovaio, ma anche quei fattori che possono indurre una degenerazione neuronale precoce. E quindi come dire, in qualche maniera la genetica ci parla di questa embriogenesi. Se però noi pensavamo con la genetica di ordinare questo sistema, cioè di avere delle mensole ben differenziate tra un quadro clinico e l'altro, purtroppo abbiamo sbagliato perché lo stesso studio dei geni ci dice che in realtà molti quadri clinici sono imbricati e quindi il deficit parziale di GH dei geni a comune con un ritardo puberale costituzionale, il ritardo puberale costituzionale con l'ipogonadismo e anche all'interno delle forme di ipogonadismo i geni sono tanti e sono intrecciati tra loro. E questo lo vediamo anche andando a fare un'anannesi perché il 10% per esempio dei familiari di soggetti con ipogonadismo ipogonadotropo hanno un ritardo puberale e poi più deficit diversi sono presenti nelle stesse famiglie, sempre in un intreccio genotipo-fenotipo che non è matematico. Quindi è bello perché la genetica sembra una cosa, una scienza esatta, ma poi ci dice che la nostra biologia è una biologia che ha dei limiti molto più confusi. Qualche volta l'ipogonadismo si associa a delle patologie cliniche di tipo malformativo, come nel caso della sindrome di Charge che è una sindrome molto ben codificata, ma sicuramente noi tutti siamo affazionati al tema della sindrome di Kalman perché ha dato il là a questi studi. l'anosmina è stato il primo peptide caratterizzato da un punto di vista genetico e che unisce un deficit olfattivo variabile a un ipogonadismo ipogonadotropo. Le caratteristiche di questo quadro clinico è che c'è da un lato, come dicevamo, un'eterogenità genetica perché può essere ereditato in tanti modi, ma può essere anche una forma sporadica. E poi gli stessi geni coinvolti sono dei geni diversi. Dall'altro lato c'è anche un'eterogenità fenotipica, cioè a parità di geni il comportamento fenotipico è diverso. Non solo la sindrome di Kalman si può associare a una serie di altre situazioni diciamo cliniche che sono anche state esplorate con geni per esempio di tipo diverso. È chiaro che per la nostra valutazione noi partiamo dalla clinica, partiamo da una curva di crescita caratteristica in cui l'accrescimento degli arti inferiori si prolunga oltre il tempo, partiamo da un profilo endocrino che però non è specifico fra gli ipogonadismi e teniamo presente che la valutazione dell'olfato non va fatto chiedendolo perché l'autovalutazione è fallace e perché esistono varie forme di iposmie diverse per cui uno sente alcune cose e non ne sente delle altre. A livello encefalico è possibile anche vedere un'ipoplasia dei bulbi o alfattivi associata, ma quello che è particolare è che non sempre chi ha l'ipoplasia dei bulbi olfattivi effettivamente ha un deficit olfattivo quindi anche in questo caso la clinica ci sorprende. Andando a pensare agli ipogonadismi ipogonadotropi isolati sicuramente i quadri più frequenti sono quelli in cui è il ricettore del GNRH che è mutato e ormai c'è un elenco delle varie possibili mutazioni e ci sono anche quadri in cui il menarca viene ma il deficit recettoriale si presenta dopo come amenorrea secondaria. Esistono anche mutazioni in quel peptide così particolare nel network metabolico che è la chispeptina che effettivamente rispondono con mestruazioni alla somministrazione di chispeptina recombinante. Esistono mutazioni di quei peptidi che lavorano insieme diciamo alla chispeptina che sono caratterizzati alcuni dal fatto di dare degli ipogonadismi ipogonadotropi reversibili cioè che a 19-20 anni cominciano a mestruare per conto loro. Molto raro è il deficit di leptina quindi io lo metto solo concettualmente tenendo presente che esistono forme diverse una più grave che è associata anche a un deficit immunologico perché la leptina regola in realtà anche l'immunità delle cellule T e una in qualche modo più lieve in cui però il dosaggio della leptina parla di più e anche qui volendo con la leptina ricombinante noi induciamo la mestruazione quindi come dire è un modo per capire questi circuiti di cui altri poi vi parleranno. La forma però effettivamente più presente è quella di un ritardo costituzionale di crescita e di pubertà che non è una forma rara ma in cui è l'anamnesi di familiarità che guida. Sappiamo che al femminile è la mamma che dobbiamo considerare non tanto la linea paterna e con una trasmissione che è autosomica ma anche questa variabile. Anche qui c'è un'eterogenità genetica per quello che per ora sappiamo con varie mutazioni di geni simili a quelli che abbiamo visto per l'ipogonadismo ipogonadotropo. Anche la clinica però è variabile perché ci sono soggetti che arrivano all'età di questo menarca che non viene anche con un deficit di crescita mentre ci sono soggetti che hanno una crescita tutto sommato normale e che presentano solo un ritardo nello sviluppo dei caratteri sessuali secondari e nello sport di crescita puberale e poi quando questo avviene invece un'accelerazione dei tempi medi della pubertà. Tutto questo però tendenzialmente in modo armonico per cui se noi facciamo un'età ossea è in accordo per esempio con i parametri endocrini che noi studiamo o ricerchiamo. Ma come possiamo capire che siamo di fronte a un ritardo costituzionale di crescita e non a un ipogonadismo che ha comunque dei livelli di LH verso il basso? L'endocrinologia ci aiuta ma non molto. Questo pediatra endocrinologo tedesco ha proposto come parametri maggiormente indicativi due fattori, i livelli di Nibina B e la risposta al test col GNRH analogo valutata sia a 4 che a 24 ore e effettivamente nei suoi studi non c'è un grosso overlap fra gli ipogonadismi ipogonadotropi e i ritardi puberali costituzionali. Però abbiamo bisogno di conferme, altri autori non hanno trovato questo elemento così netto tra l'uno e l'altro e quindi non possiamo diciamo essere certi che questo ci dà la risposta. Peraltro anche chi ha un ritardo costituzionale di crescita e pubertà può avere qualcosa dopo, per esempio un target staturale non sempre raggiunto, dei cicli ovulatori raggiunti più tardi, dei problemi di tipo metabolico e un minimo deficit di picco di massa ossea. Quindi su questo si apre il dibattito ma a un certo punto tratto? Do una terapia ormonale sostitutiva? Tratto per un po' e poi lascio andare? Non tratto? E' chiaro che la risposta è molto individualizzata. Gli ultimi minuti della mia relazione sono dedicati a qualche flash di diagnosi differenziale perché in realtà nella pratica clinica noi ci troviamo spesso di fronte a queste ragazze con questo LH basso, con un po' di caratteri sessuali secondari, con una crescita non meravigliosa ma nemmeno drammatica e a volte non sappiamo esattamente cosa fare. Una delle possibilità diagnostiche sottostanti è un ipotiroidismo, un ipotiroidismo non drammatico perché noi sappiamo che un ipotiroidismo grave e prolungato può addirittura arrivare a stimolare le ovaie in anticipo. Ma qui parliamo di forme lievi e anche subcliniche che qualche volta possono condurre a un ritardo omogeneo sia della crescita sia dello sviluppo puberale. Anche qui c'è un'ipotesi patogenetica sul piano endocrino interessante ma da dimostrare sull'uomo perché i dati sono dei dati animali che collega questa possibilità di colloquio tra l'asse tiroideo e l'asse che va alle ovaie ma anche quello della risposta da stress alla azione inibitoria del gonadotroping inhibitory hormone che ha effettivamente negli animali una riduzione, un aumento diciamo nei soggetti che sono ipotiroidei. è un'ipotesi ma che ci apre comunque un quadro interessante da studiare. Altri parleranno di quella che è la patologia in crescita di questo nostro mondo che sono gli ipogadenadismi funzionali da deficit energetico. Quindi io non ne parlerò però sottolineo che disturbi alimentari di tipo restrittivo oppure un'attività fisica intensa magari con uno stress in più possono agire anche in fase prepuberale rallentandola. E qui troviamo un quadro che è sovrapponibile a volte a quello del ritardo puberale se il deficit energetico non è intenso e in cui è importante valutare l'anamnesi molto bene. È importante se sono delle atleti arrivare a quantificare la loro attività fisica. È importante studiare la loro composizione corporea ma i nostri strumenti in fase prepuberale sono meno testati quindi abbiamo meno capacità diagnostiche e anche la dextra total body ci parla meno. Abbiamo ovviamente degli ormoni che ci aiutano a fare diagnosi differenziale degli esami ematochimici. Il penultimo punto di diagnosi differenziale è la possibilità che ci sia un ritardo puberale a causa di una malattia cronica. Allora se noi sappiamo già che la malattia cronica c'è non c'è problema perché ci viene in mente questo. Però io vi segnalo che esistono per esempio delle forme di malattia di Crohn a esordio prepuberale in cui la diagnosi parte da un ritardo puberale non dai sintomi gastrointestinali. Così come non parte dai sintomi gastrointestinali in questa fascia di età la diagnosi di celiachia che come vedremo quindi dobbiamo essere diciamo aperti a pensare anche alla possibilità di una malattia cronica che spesso noi dobbiamo valutare come pediatri sulle curve di crescita cioè vedendo che c'è una deflessione della velocità di crescita. Dicevamo la celiachia. La celiachia viene frequentemente diagnosticata al momento della pubertà per un ritardo perché è un tipo di situazione in parte genetica in parte acquisita in cui varie cose vanno a rallentare lo sviluppo puberale. Il deficit di nutrienti, una composizione corporea che non è favorevole diciamo alla mestruazione ma anche dei processi autoimmuni che agiscono a livello varico forse anche a livello ipofisario. E appunto è più sulla curva di crescita e più su altri segni a livello della pelle, a livello delle transaminasi, a livello dell'emocromo che noi possiamo arrivare in qualche modo a questo tipo di diagnosi anche se effettivamente gli anticorpi anti-transglutaminasi e le IGA totali fanno parte della diagnostica di routine del ritardo puberale. L'ultima diagnosi differenziale che vi sottolineo è questa perché in realtà noi ci troviamo di fronte a una situazione che è spesso una sorpresa, cioè ragazze sane che non hanno mal di testa, che non hanno disturbi visivi, che crescono tutto sommato bene, che hanno un po' di caratteri sessuali secondari ma che non arrivano a una situazione di menarca. In realtà possono avere un'ostruzione del terzo ventricolo che diventa compressiva, spesso su base congenita, qualche volta ad opera di compressione da cisti arachnoidee, che determina un rallentamento della dismissione del GNRH. Se noi non facciamo una risonanza magnetica noi questi quadri non li vediamo, prima o poi diamo una terapia ormonale sostitutiva, ma sono situazioni risolvibili con un intervento neurochirurgico anche piccolo. Quindi, diciamo, da un punto di vista diagnostico pratico, a me sembra che un ritardo puberale dove noi non arriviamo a una definizione diagnostica, quindi fatta la curva di crescita, fatto un buon esame obiettivo, fatto un po' di esami generali, fatto un po' di primi accertamenti endocrini, forse è una delle poche patologie in cui bisogna spendere qualche risonanza magnetica in più, non soltanto per questo ma anche per quelle piccole patologie organiche, cioè un empty cell, delle minime situazioni ostruttive, che diciamo è in questa fascia di età che effettivamente sarebbe corretto diagnosticare. Grazie.